Siamo presso la Curia Arcivescoville dove a breve sarà presentato il bozzetto del carro trionfale realizzato da Andrea Sansone per la prossima festa della Bruna 2014. Qui alle mie spalle hanno già preso posto l'Arcivescovo con il nuovo presidente del comitato. Facciamo silenzio perché qui dietro, vedete, dietro questi panneggi si nascondono i nuovi bozzetti del prossimo carro. Allora, il progetto di Inverta la Cattolica. Iluziosa sul tema della carità della Chiesa Cattolica nel corso degli anni, ho voluto rappresentare quindi nella parte anzionale Papa Perfoglio con il suo discorso pastorale sulle periferie esistenziali. Signori, però, abbiate parte di noi, lavorate. Grazie." Grazie". Grazie.